Io penso di sì, altrimenti non avremmo avuto questo tipo di possibilità, questo ritorno alla libertà. Sono stato criticato in passato per aver detto che di fatto il vaccino e lo stesso Green Pass sono uno strumento di libertà. Quello che è avvenuto ieri e quello che sta avvenendo lo dimostra. Rispetto a questa vicenda qui però un'unica cosa, se è il vaccino quello che ci permette di entrare in una discoteca, in un cinema e via dicendo, io non capisco perché mantenere ancora queste percentuali, perché se per caso il vaccino non funziona, 35, 50, 70 è la stessa cosa. Per cui sotto certi aspetti molto spesso la politica dovrebbe fare il suo mestiere e il CTS deve dare dei consigli, ma poi deve essere gestito l'elemento, il consiglio che viene dato dalla comunità scientifica. Sì, tra l'altro ricordo insieme a Luciano Fontana che l'indicazione...